Più Giampaolo che Musetti in attacco per sostituire Danilo Alessandro, squalificato per un turno. Mister Cudini non ha ancora preso una decisione ufficiale, ma si va in quella direzione. Lo farà domani mattina, poco prima, la riunione tecnica che precederà il big match. In casa del San Nicolò Notaresco, il Campobasso cerca la partita perfetta per dare la sensazione, almeno quella, di poter riaprire il campionato, ma anche per togliersi una soddisfazione e dimostrare a tutti di valere le zone nobili della gradatoria. Ha cercato bontà, ma farà di tutto per essere in campo. Non vuole saltare una gara così speciale in un ambiente che conosce bene. Gara da ex anche per Cudini e De Angelis e altri calciatori. Rosso-Blu, gara trasmessa in diretta dalle frequenze di Sport Italia, canale 60 del digitale terrestre. Cudini col 4-3-3, Cogliati, falso 9, Giampaolo a sinistra, Zammarchi sul binario di destra. Serviranno cuore, testa e determinazione. Arbitro della gara, Restaldo di Ivrea. L'Agnonese in casa contro la Recanatese, fra botta al centro della retroguardia, insieme ad Allegra l'ex Campobasso. Isernia è pronto a rientrare e a tornare a guidare la linea difensiva. Ciampi, a meno di clamorosi cambiamenti, si accomoderà in panchina. Pizzi e Soci potranno così contare sulla difesa titolare per mettere il bavaglio a Pera e Borrelli. Impresa ardua, ma non impossibile, per una squadra che al Civitelle riesce ad asprimersi al meglio e che dopo l'espluata di Montegiorgio punta con decisione alla zona playoff. Novità potrebbero esserci anche in attacco. Pablo Acosta sta meglio e dovrebbe tornare ad indossare la maglia numero 9 dopo aver saltato l'ultima sfida con lui. Minacori e Cone che andranno a completare un tridente che promette scintille e una prova di qualità e quantità. Arbitro del match Calzavara di Varese. Infine il vasto Girardi di Scenaiesi. In un match dal sapore della salvezza, Ruggeri al centro della retroguardia, Chiare Mateng centravanti con Petrone e Bruni sui esterni e Albino Fazio in mezzo al campo. Il luogo dello squalificato di Lullo. Queste le ultime novità dopo la rifinitura di questa mattina nel quartier generale di Fornelli. La Iesina è penultima in classifica e quella di domani potrebbe essere una delle ultime occasioni per iniziare a risalire la china. Per questo la guardia deve essere altissima. Gara diretta da Guazzolino della sezione di Torino.